il barbun il barbun no, qua secondo me il barbunicero non lo metteranno mai, si inizia tutto questo è vero? non lo mai dire mai dai, guarda i ragnatili qua guarda che roba, lo spiderman guarda che roba guarda che roba ho visto ma è rimasto io ancora si vede rimasto io te non vedo un po' sta scritta già c'era ma la ricordo guarda che roba guarda che roba ma che è un cavallo che ha? Pega su! non ci siamo mai arrivati ad ora secondo me è meglio non arrivare no però lì c'è ragione c'è ragione non ti riprendo no no non ti riprendo tranquilli tutto questo segnalo è di capire mangiare evidentemente sta diventando famoso ma evidentemente ne abbassano visto infatti in cosa faccio? passate se ti dico passate all'acqua lata no che non è vero la risonatura è chiaro non ci riprendo non ci riprendo non ci riprendo è chiaro grazie